In questo periodo hai maturato l'idea che è forse giunto il momento di convogliare a nozze. Magari vivi ancora con i tuoi genitori e giustamente vuoi cornare il sogno di una vita, ma per farlo hai bisogno prima di avere la casa giusta. Se è così, fermati e guarda questo trilocale con giardino e garage doppio a Veronella, perfetto per iniziare la tua nuova vita da giovane sposini. Vediamo nel dettaglio tutte le caratteristiche di questo appartamento pronto all'uso. Costruito nel 2007, grande 110 metri quadri, l'entrata come vedete è indipendente e ha questo giardino di medie dimensioni, perfetto per far giocare un amico quattro zampe o il vostro futuro bimbo. Salendo le scale raggiungiamo il primo piano e subito abbiamo questo salotto open space con alla vostra destra la cucina. Proseguendo alla zona notte abbiamo subito alla nostra destra il bagno con la doccia appena rifatta praticamente nuova. Più avanti, sempre sulla destra, abbiamo la camera studio. Qui abbiamo la camera singola. E infine la camera matrimoniale con un piccolo terrazzo dove potrete stendere i vostri panni o rilassarvi la sera. Come potete vedere gli infissi che sono in doppio vetro e legno, soprattutto anche i basculanti, sono praticamente nuovi del 2007 e esiste anche una caldaia condensazione cambiata tre anni fa, ottima per un risparmio energetico, soprattutto adesso visto che il gas è aumentato di molto. Nel caso hai o arriverà un piccolino, questa zona è molto pulita e ordinata, piena di giovane famiglie come la vostra. Si conclude il tutto con garage doppio azionato dal basculante elettrico che si collega alla casa. Trilocali con queste caratteristiche, giardino e garage doppio, sono assenti in zona perché vanno subito a ruba. Per questo, se vuoi partire subito con una marcia in più per te e il tuo partner, questa è la casa perfetta per il vostro primo nido d'amore. Clicca il link nella descrizione per vedere il prezzo e prenota una visita alla tua futura casa. Da Marco Market Immobiliare questo è tutto, ci vediamo a Rogito, ciao!